Non c'è pace per la zona degli impianti sportivi dell'acquedotto al Parco Fluviale. A dimostrarlo un altro episodio notturno che segue di pochi mesi il blitz di ladri e vandali alle strutture di Reg Belucca. Un incendio, che non è escluso che possa essere doloso, ha interessato nella serata di ieri una struttura in legno di supporto agli impianti sportivi. Tanti i danni ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e bonificare l'area. Questa mattina, 7 giugno, il sopralluogo della Polizia Municipale, che nell'ispezionare l'area ha visitato un ulteriore manufatto annesso. All'interno una bombola del gas da 15 litri, attiva e aperta, e a fianco una stufa elettrica funzionante, una situazione di potenziale pericolo e a rischio esplosione, oltre che l'evidente segnale che qualcuno utilizzava quella struttura come bivacco di fortuna. Gli agenti della Polizia Municipale, sul posto per l'attività di polizia giudiziaria, ora relazioneranno dell'accaduto alla procura per le decisioni del caso.